Ok, ciao ragazzi, oggi facciamo un unboxing in italiano del Motorola X4. Quello che vedete non sono tutte spalle, ho ancora il tutore, sono ancora infortunato per il momento. Nei prossimi giorni caricheremo un video anche, faremo una review, comunque una recensione della fotocamera perché questo telefono ha la doppia fotocamera come iPhone 8 Plus o Huawei Mate 10 Pro. Faccio sempre confusione, metto Pro prima del 10, Huawei Mate 10 Pro, quindi vedremo un attimino. Faremo una comparazione poi con il mio iPhone 8 e quando mi arriverà con l'iPhone X. Premesso che il Motorola sta facendo veramente, da quando è stato acquistato da Lenovo, sta facendo un lavoro veramente fantastico, i colori sono bellissimi e il telefono è bello. A questo punto l'unica cosa, come chiedo sempre in questo pezzo del video, è iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mettete un like al video e se avete qualcosa da chiedere fatelo pure nei commenti. Anzi, mi piacerebbe aprire un dibattito e sapere cosa ne pensate. Niente, passiamo al video. Motorola Moto X4 Cosa troviamo all'interno della scatola del nuovo device? Motorola Quello che possiamo vedere aprendolo è che la linea è molto accattivante, i colori sono veramente belli e veramente, come dire, riflettenti, hanno una particolarità. Le due fotocamere caratterizzano questo device della Motorola e all'interno della scatola troveremo La, allora, la pinzetta per rimuovere la tessera, il caricabatteria supercharger tubo power, quindi per aumentare la carica, la velocità di carica del vostro dispositivo E il cavo di carica del vostro dispositivo E il cavo di carica classe C Stranamente, questa volta, Motorola, la scatola non ha messo le auricolari. Il motivo non lo so, lo chiederemo poi a loro questo è quello che si trova nella scatola il device è molto accattivante adesso lo accendiamo e rimuoviamo la pellicola ok la prima attivazione per la prima attivazione scegliere chiaramente la lingua da impostare noi siamo in italia siamo italiani e imposteremo la lingua italiana italiano svizzero italiano in san marino italiano standard diciamo inizia coppia i tuoi allora a questo punto motorola offre siccome ha un android stock offre la possibilità di copiare i propri dati da un telefono android ma anche da un iphone o di iniziare da zero come un nuovo telefono allora indirizzo email password allora non aggiungere ora questo accetto a questo punto sta caricando come avete sentito è marato una mail che sta caricando il mercato di icloud di icloud pardon di android sul dispositivo allora sblocco con impronta digitale aggiungi impronta digitale aggiungiamo così vediamo anche come fare impronta digitale più sequenza impronta digitale più pin allora il pin reinserirlo e adesso proviamo l'impronta digitale avanti io lo metto come faccio con l'iphone in tutte le posizioni possibili e immaginabili gli altri motorola che ho provato visto che avevano veramente uno sblocco inter e aggiornato bello ok servizi di google asigui backup tutte quelle cose vi chiederà dovete attivarle controllo scopri cosa puoi fare comunque per te aggiungi dai si attiva ok fatto motorola ricerca nel mercato allora contenuti personalizzatori sono trovato aiutarti non accetto ok outlook non lo voglio mi disturba tanto io ce l'ho solo in prova ignora ed ecco qua il nostro motorola moto x4 attivato e pronto all'uso allora nel prossimo video che farò farò la valutazione della fotocamera ma adesso per il momento vi do giusto un'anteprima scatto rapido che è fotocamera vi do giusto un'anteprima sulla fotocamera allora mettendo a fuoco minosità gestione delle cose e me la devo studiare un po' ultimo ok la camera sta riconoscendo l'oggetto nessun risultato va bene questo per il momento è tutto vi ricordo soltanto una cosa il tasto centrale di motorola moto x4 e serve solo per lo sblocco con impronta digitale per bene serve solo per lo sblocco con impronta digitale perché non è funzionale si utilizzano vedete come lo sblocca in fretta guardate molto agile lo sblocco è veramente agile bellissimo è un bel telefono motorola sta facendo veramente un ottimo lavoro da quando è stata acquistata da lenovo un telefono infatti lo dicevo già quando ho fatto la recensione degli altri telefoni motorola da tenere d'occhio prossima concorrente per il top di gamma va bene dai allora a questo punto finiamo qui il nostro tutorial come al solito vi ricordo se avete voglia di iscrivervi al canale lasciare una recensione di scrivere nei commenti cosa ne pensate di questo telefono e soprattutto di guardare i prossimi video dove faremo una recensione della fotocamera e una recensione del telefono ok ciao ragazzi al prossimo video